Sì. 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 Dividete a metà la parte superiore. Sì. Sì. Quella in alto, l'hai Emilia? Sì. Sì. Adesso con la parte centrale. Sì. 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 Allora, la dimensione totale diviso 5, quanto viene? Diviso 5, 10. 20. Quanto è? Quanto misura? 100. 100. Ecco, allora diviso 5, cosa viene? 20. 20. 20. Però... 20. Dovete partire dal centro. 20. 20. 20. E dopo, vedete? Questo, il terzo 20, diviso a metà. Cioè 10. 10 va fuori, che otteniamo qua con un pezzo che togliamo da qui. Capito? Sì. Dall'altra parte, 20, 20 e 10. Forza. Mettete i semi. Dai, vetti, vetti. Sì. 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 minded do Pass. Sì. 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 Il grande e più solito? Il grande e più solito? Il grande e più solito? Oltre Il grande e più solito? Un punto, un punto Per mai, un punto Il grande e più solito? Nel piano Il grande e più solito? A studiare i spiagni Non mi importa Ora vediamo Aspettate Uno Un punto A prestare E' un punto La parte centrale lì, unitela con la parte centrale in fondo. Oh cattedra, tu bastione di fortezza, saldo te ne hai visto con noi i miei venti cialieri, come un afro che hai visto fin dall'odiata soglia, che barcar debbo anche senza voglia. No, sugli ne siamo, fin dall'odiata soglia, che di impararci fa bastare una volta. Tu, isola di salvezza, miraggio di lì lontano, fino mai finito di crani, vuoi di senso estraneo. Aspiriamo alla salvezza, scocciando di lì lontano, mai finito, farai e bruci tratti da marziani. Tu, bastione di fortezza, saldo te ne hai visto con noi i miei venti cialieri, tu bastione di fortezza, saldo te ne hai visto con noi i miei venti cialieri, non abbiamo tanta animazione, pigri ambiziosi, no, non è così che ha solo i pigri ambiziosi. Tu, bastione di salvezza, saldo te ne hai visto con noi i miei venti cialieri, e vi faccio con noi i miei venti cialieri. Tu, bastione arcana, manca la pedana, strenamente conquistata e colonizzata, con effetti personali, borsa, pezzi e occhiali. Wow, quanta bella gente! Seguite me e non mi pentirete di niente, sono Miss Moda, la slissa di guida, wow! Wow, la ragazza griffata e che bella merito! Sì, voi due avete già capito tutto, ci scommetto! Beh, ma se te lo vuoi avere un difetto! Al contrario, se siete furbi, fate altrettanto! Voi non sapete davvero quanto! Sei felici e appagati usando altri griffati, imitando gli attori preferiti, gli stessi gusti, gli stessi liti! Sei il mio ideale! Sei il fenomenale! Quello è il mio mondo! Il mio giro! E questo è un successo a cui aspiro! Dica la verità che scherzi però! Basta scegliere come spendere! Basta scegliere da chi riprendere! Basta scegliere da chi riprendere! Basta scegliere da chi riprendere! Basta scegliere da chi disegnare! Chi si presenta al tasandato, sarà subito immaginato e da fattorino per attrattarlo! Miss Moda e scaviglia! Ha già spopolato! Più di altro, mi ha già spiegato! Venite con me! E avete tanti tanti abiti da sfoggiare! Grandi look da indossare! Viva il Luke! 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 Jessica! No! Emotico e emotico! Ma chi è che è il mio amico? Tutto il coro! Ma chi è l'emotico? Gente! Il coro! Dai! Emotico e emotico! Se abbiamo il bisogno del momento! Pensiamo con la pancia! E' più ragionamento! E' lei che mi rompe! E' lei che mi insegna i classici come lettura! E' l'umanesimo! Sono la cultura! Chi è? Chi è l'umanesimo? Chi è l'umanesimo? Chi è l'umanesimo? Chi è l'umanesimo? Non so! Non lo avevo! Stai tranquilli! Lasciatevi andare! Sono qua io a guidare! Vi ho detto io che sono re del bilenno! Per voi ce ne sono sta ragione! Ma dare la prof in totale confusione! In modo che ne va accendere la ragione! Niente logica! Niente lezione! Nessuna certezza! Soltato! Confusione! Confusione! Mi dispiace ma stavolta è la sola soluzione! Confusione! Per chi ti vuole balsamati! Baccalasse di emozione! Confusione! Perché ti vuole balsamati! Baccalasse di emozione! Confusione! Realizzate il desiderio del momento! Per il resto di te non ci sento! Ragionate con la pancia! Pissate con la pancia! Ragionare è ciancia! Seguite il vostro istinto! Chi è il corrone? Noi! Vito! E modico! Se abbiamo bisogno del momento! Pensiamo con la pancia! Ci non è più radoramento! Se vi viene un pugno! Lo do lo dai non ci peso! E se ci viene l'offesa? Mi ha toccato perché mi sono attesa! Mi incassi fatto che tu sono attesa! No! No! Cacca! Sì, genio! Esch! 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 Cominciamo la lezione! Oh oh! Come l'ho detto! Trevi la debola da gestire! Mi fanno impazzire! Sono stremata! Pilita! Stressata! Vedo! Ma perché non hai insegnato da fare psicoterapeuti? Eh... Hai ragione ma... Beh anche a te che fai lavoro normale! Un po' di silenzio! Puoi interrogare! Guarda! Ti sbaglio! Non puoi immaginare! Sei dietro una cateda! Non fai la squattera! Da una cateda controllo i barbari! Mi dirigi! L'idiotto! Te lo fanno gli scimiati! Ma li vedi? Ma che ti fanno i passerotti? Se lo scrivo neanche le assenze! E per non perdere i visti ai presenti! Però... Una cateda! Dapposutto avratti questi iconoclasti! Già! Proprio i libri più sani! Già! Proprio i libri più sani! Sono documenti rubazzani! Ma per loro soltanto oggetti marziani! Immaginiamo libri lontani! Suori! Mare infinito! Banani! Ma per loro soltanto oggetti marziani! Però... Da una cateda! Puoi punire! Comandare! Vuoi scherzare? Una cateda! Una cateda! Mortale e zatera! In maniera della vostra ronda! La vostra ronda! La vostra ronda! La vostra ronda! La vostra ronda! Vedi! Non vi può interessare! Devi farli lavorare! Devi sempre... Devi sempre interrogare! Non è tutto! Non è tutto! Non è così! Professoressa! Vada giù! Grazie! 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 No! Professoressa! Vada giù! Precedente! Vada subito! All'esempio! La vuole! E' innanzi... No! Stresa! Vado alla presenza! Vado alla presenza! Vado alla presenza! Guardate alla presenza! Vado alla presenza! Vado alla presenza! Vado subito! Ferri voi! ci sto io non ti preoccupare anche le grazie può andare tutti a posto lavorate per conto vostro io devo seguire la vostra compagna Sara, qui si vengono dalla lavagna basta, devo andare da Deborah aspetti, proviamo anche noi io e Jessica, io chiamo Kimberly mi dico una Deborah intanto che a Bù traduce qualche legno, c'è cari d'accordo, accetto l'aiuto ma siete in troppi, Arianna rimani tu ok vieni anche lui e perché non facciamo il pezzettino ragazzi non è stato il suo occhio non c'è anche l'altro non c'è anche l'altro non c'è anche l'altro vabbè lo fa un altro non c'è anche l'altro non c'è anche l'altro ah è la voce ma che è un attimo vedo anche che non non c'è anche l'altro la canzone ci siamo liberati da questo ma questo è un attimo la musica è una musica è divina è divina non è divina non è divina ah no, di chi è? è dirte ma tu cosa dici? non ho sentito non ho sentito proprio questa canzicina che loro hanno adesso in un certo che fa sempre la commedia è sulla base musicale di una canzone di bonga o no l'avete fatto? no ma l'avete fatto? no ma l'avete fatto? ma l'avete fatto? no ma l'avete fatto? no ma l'avete fatto? si può provare e vedere se vuol dire il contesto? e qua adesso eh perché facciamo una parte poi abbiamo aggiunto tipo la scala e poi si rifacciamo una parte adesso non è risulta come si può fare d'accordo allora facciamo questo pezzettino da eh Edoardo fai il gusto di manterla ma io non lo so ma è semplice la facciamo sul tavasco non è arrivato nessuno i rischi imbicidiali non è arrivato nessuno i rischi imbicidiali non è arrivato nessuno e poi ragazzi che idea poi fate il coro ma è arrivato nessuno allora ti danno siano musso non so qual è dai facciamo la presenza Idoardo preparati la tua è la classica idea perché non prendiamo i poteri quindi non ti basta volere facciamo la prova la prova non c'è è un'occasione allora però può anche più di gente che fa il corretto cioè abbiamo tutto tipo il corretto ma c'è la nostra parte o ci siamo liberati ah si si ma fattelo tutti quelli che lo sanno no te l'ho mai fatta vabbè Matteo pronti ma siamo solo noi Matteo chi viene? ma siamo solo noi perché sennò pensare non viene bene ci vogliono più voci per sto coro eh chi è che di solito noi non è arrivato nessuno allora la leggi dai non è arrivato nessuno allora non è arrivato nessuno si guarda intorno il corridoio e entra non è arrivato nessuno non è arrivato nessuno inizio a meditare e anche tornare voi ragazzi facciamo la professione la prova non c'è è un'occasione in fin dei conti basta volere il ragazzo del taglio nel pallone o ci provranno la soluzione per esempio la postura è chiusa no subito il coro oh oh ci siamo dai 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 lo ti a dai ragazzi Che idea, perché non vediamo il potere? In fin dei conti basta volere, facciamo la gestione, la propria c'è, è un'occasione. Oh, 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 ci siamo liberati da questo, da rocati non abbiamo bisogno, per vivere il nostro sogno di scuola divertente, rilassante e poi buon gente. E Gesù cambierà, banale e formica, quattro stampe, imbarigliarsi nella nostra onda, passiamo alle nostre stampe, alla nostra baronda e alla nostra baronda. Quattro, ok, e fate adesso anche delle altre, questo è il vento, il vento è in fondo, dov'è? Qua, la, così, ma praticamente c'è, cosa c'è? Non importa, aspetta, Isabella, fai, non disegnare il suo banco, passa di qua, ok, facciamo anche quello successivo. Ci sei? Sì, vai. Dalla parte di là, forza, avete visto come abbiamo fatto noi di qua? Fate lo stesso, forza. Dov'è, segnali il tuo dedo? Bravissimi! Venti? Venti, dov'è? Di spettacolo! Dai, mi sceglievo di spettacolo! Guarda, si sbaglia un po' qui! Dai!